Buongiorno a tutti, grazie Jean-Pierre per l'introduzione. Tecnico previsore, in primis, oltre che coordinatrice, ha il compito di parlarvi un po' della funzionalità e dell'interpretazione del bollettino. Come ha già accennato Sara, è uno strumento che serve per informare, quindi da questo punto di vista è importante dire che è uno strumento di previsione, nel senso che consente di fare una fotografia di quale potrà essere lo scenario per chi frequenterà l'ambiente innevato per le 24 ore successive rispetto al momento di emissione con anche l'indicazione di una trendenza. È a scala regionale, anche questo l'ha identificato Sara, è un aspetto estremamente importante perché inquadra la valutazione non in misura puntuale, quindi su un sito specifico o una valutazione di carattere locale. È uno strumento, abbiamo detto, di pianificazione perché serve per muoversi sul terreno al di fuori delle aree sciabili gestite. È a sua volta un documento informativo e di monitoraggio a supporto delle commissioni locali valanghe. Perché? Perché aggiorna la situazione e definisce quello che è lo scenario atteso in termini di potenziale e probabilità di eventi valanghivi. Non è un semaforo, questo è fondamentale capirlo, lo ha accennato Sara, perché deve essere utilizzato come strumento d'aiuto alle decisioni per permettere a ciascuno di adattare il proprio comportamento alle condizioni della neve in funzione della propria esperienza. Quindi si riprende anche in questo contesto il concetto di autoresponsabilità. I servizi valanghe comunicano quindi al pubblico il pericolo valanghe nelle zone di competenza con la descrizione dell'innevamento attraverso degli standard che sono definiti a livello europeo, con una piramide informativa che vede al suo vertice la definizione del grado di pericolo, ma che poi si declina in tutta una serie di altre informazioni. E nel grado di pericolo è importante capire cosa contiene e come viene definito. Intanto è determinato da tre parametri, quindi ha tre ingressi di valutazione. La stabilità del manto nevoso è il primo punto, la sua distribuzione sul terreno e la dimensione delle valanghe previste. Questi tre elementi consentono di andare a definire quello che è il grado di pericolo. Ma è possibile prevedere se un pendio sarà soggetto ad una valanga o meno? La risposta è no. No, nel senso che non si può mai sapere la probabilità esatta di un innesco o la dimensione della valanga attesa in un dato giorno, ma si può esprimere una gamma di possibilità. Quindi si definiscono degli scenari, si definiscono delle probabilità. Questo perché? Perché la neve presenta una grande variabilità nello spazio e nel tempo. È un elemento complesso. Il problema legato alla stabilità o instabilità del manto di solito è invisibile perché è nascosto sotto la superficie del manto nevoso e quindi il bollettino fornisce le informazioni per poter capire quali sono i livelli di stabilità o instabilità. Inoltre, per quanto riguarda soprattutto le valanghe provocate dall'uomo, queste fortunatamente sono abbastanza rare e proprio gli eventi a bassa probabilità sono difficili da prevedere in modo affidabile. Quindi come si può ridurre l'incertezza del pericolo? Raccogliendo molte prove. E questo è ciò che fanno i tecnici previsori per fornire tutti gli elementi all'interno del bollettino. Cioè, aggregano una serie di informazioni da un'ampia varietà di fonti che sono aree sciistiche, rilievi itineranti, stazioni meteo, previsioni meteorologiche, modelli sempre di più, le analizzano, le pesano e li trasformano quindi in una valutazione di uno scenario che è descritto all'interno del bollettino. Ma perché si definisce un pericolo e non il rischio? Perché il grado di pericolo non affronta l'esposizione umana e la vulnerabilità che sono le altre due componenti del rischio. Quindi i previsori valanghe non hanno alcun controllo sul fatto che le persone si espongano al pericolo valanghe o che minimizzino la vulnerabilità usando l'attrezzatura per l'autosoccorso in valanga o che scelgano un terreno per ridurne le conseguenze. Quindi ciò che possono fare i previsori è definire un pericolo. Rispetto all'interpretazione ci sono due anime che legano l'interpretazione del bollettino, anzi direi tre, comprendendo anche la scala del pericolo. Sono quindi il pericolo valanghe, poi la sua componente che viene descritta, quindi la parte testuale del bollettino, ma anche la parte legata alle icone che vengono utilizzate e che sono definite in tutti gli elementi a livello europeo. Perché? Perché il grado di pericolo non è tutto. Non a parità di grado possono verificarsi delle situazioni valanghive diverse. Ecco che quindi a livello europeo sono stati definiti cinque problemi valanghivi che sono quelli per neve bagnata, neve ventata, strati deboli persistenti, neve fresca o valanghe da slittamento. E quindi è insufficiente pianificare una gita basandosi solamente sul grado di pericolo. È necessario leggere tutto il testo del bollettino per comprendere la situazione valanghiva in base appunto ai problemi valanghivi. Quindi tutto ciò consente poi nel momento in cui si effettua un'escursione di adottare un comportamento che è consono a quello che è lo scenario, quindi al problema valanghivo che è stato identificato nel bollettino. Vi riporto velocemente un esempio di come interpretare, come leggere queste rappresentazioni grafiche. Non so se ho la possibilità di puntare, no? Ok. Quindi così. Vi faccio un esempio utilizzando questa immagine. Allora, intanto c'è una mappa che definisce il grado di pericolo. Grado di pericolo che può essere diversificato per quota, quindi per fascia altitudinale. In questo caso al di sopra di 2200 metri c'è un grado di pericolo maggiore. E si va ad indicare quali sono i problemi valanghivi. Quindi in quella giornata abbiamo due problemi valanghivi, uno legato alla neve fresca e questo problema valanghivo riguarda tutte le esposizioni, quindi vengono indicate quali sono le esposizioni critiche e in questo caso al di sopra dei 2200 metri. Cioè non significa che non ci sia neve fresca al di sotto dei 2200, c'è, ma non è un problema. Il problema quindi per chi poi si approccia ad effettuare l'attività andrà a considerarlo al di sopra di questa quota. Quindi a seconda di quelle che sono le condizioni e di come cambia la giornata, i previsori definiscono questa tipologia di scenari. Molto importante è dare evidenza che la definizione del pericolo abbraccia quindi tutto l'arco alpino, non solo italiano, ma anche il nord delle Alpi e quello appenino, con un'unica modalità di comunicazione, sia nel linguaggio sia in quella che è la scala del pericolo. Perché? Perché in questo modo si vuole puntare a ridurre e limitare tutto ciò che possono essere possibilità di interpretazione. Quindi un linguaggio comune che tra l'altro viene anche tradotto contemporaneamente in sette lingue su tutto la porzione di territorio alpino, italiano e di Nord Alpe. Mi preme dare evidenza di un passaggio. A volte ci viene chiesto come mai possono esserci delle differenze di grado di pericolo tra i confini, tra le zone confinanti. È importante sottolineare che le Alpi sono una barriera orografica e in quanto tale implicano dei cambiamenti a seconda che ci si trovi a Nord o a Sud delle Alpi perché possono costituire uno sbarramento oppure sull'asse Est e Ovest e quindi nel nostro caso della Valle d'Aosta con i rispettivi colleghi francesi e piemontesi. Rispetto al testo vi porto rapidissimamente per starne nei tempi questa rappresentazione del bollettino dello scorso weekend era praticamente estate adesso siamo di fatto in inverno. Mi preme darvi evidenza che intanto il bollettino ha una dinamicità estremamente legata a quelle che sono le condizioni anche che stiamo vivendo adesso. Quindi nell'esempio del weekend scorso avevamo una differenza di grado di pericolo tra il mattino e il pomeriggio perché era dettato da condizioni legate all'irraggiamento solare a quanto implicava in termini di possibilità di criticità. Ma leggere il testo vuol dire veramente soffermarsi su quelli che sono gli elementi più importanti ve li sintetizzo. Un primo focus l'escursione e le salite ai rifugi dovrebbero iniziare e terminare presto perché all'interno del bollettino è spiegato cosa ci si aspetta che possa verificarsi che l'irradiazione solare in questo caso agisca sul manto nevoso che possono verificarsi degli eventi valanghivi anche di fondo e che quindi possono andare ad interagire con dei percorsi che sono normalmente abituali. Concludo con questa considerazione tratta da Bruce Temper che è un bravissimo previsore meteo che ha scritto un bellissimo volume Conoscere e interpretare il terreno valanghivo da Valanga il quale dice quello che non sappiamo è spesso più importante di quello che sappiamo e così è nel senso che a tutti gli effetti quando penso ad esempio agli strati deboli persistenti quindi a un'instabilità che rimane sotto la copertura del manto nevoso mi viene in mente ciò che succede a chi va in barca nell'oceano atlantico del nord dove se non ha il radar rischia di incappare in iceberg che al di sotto possono creare dei grossi problemi e il bollettino è lo stesso il bollettino è il radar per lo sci alpinista grazie grazie grazie